Numero 7, bravissimo, bravissimo, Giulia, eccola, numero 105, bravissima, bravo Giulia, qui stanno facendo il pettorale, eccolo, numero 101, bravissimi, tutti, numero 5 è arrivato, ecco adesso la zona d'arrivo si sta affollando, degli spettatori, che hanno accorso quanto i loro ragazzi, per lavorare in tempo. Siamo a circa 5 minuti di gara, stanno arrivando ancora Luca De Monte, ecco da l'arrivo, si traverà soltanto la testolina fuori dall'altra uscente, nel canale diciamo che è stato preparato apposta dallo staff per poter individuare i ragazzini che di solito lo svicolano.